Alberto Dionigi è Presidente Nazionale della Federazione Clown Dottori. Oggi è intervenuto al Festival Francescano sul tema Ridi che ti passa. Cosa vuol dire Ridi che ti passa? Innanzitutto buongiorno. Oggi ho cercato di spiegare un po' quali sono i poteri benefici dell'umorismo e della possibilità di avere un approccio divertente alla vita anche in quelle situazioni in cui non è poi così semplice e immediato. Quindi sulla possibilità di cogliere quell'aspetto positivo anche di fronte alle avversità che noi tutti ovviamente sperimentiamo nella vita quotidiana e che se sperimentate e coltivate ci possono dare la possibilità di migliorare il nostro benessere personale. Mi sembra anche in ambito sanitario, in ambito medico, psicologico che questo accada? Ah sì, assolutamente. Basta pensare ad esempio al fatto che sono sempre di più i clown in ospedale. Io come Presidente della Federazione Nazionale Clown Dottori sono stato qui oggi a rappresentare questo movimento e al fatto che veramente il potere dell'umorismo, della risata unitamente a tutte le altre emozioni positive può migliorare la permanenza in ospedale dei piccoli pazienti e non solo dei piccoli pazienti quindi praticamente dai 0 ai 150 anni. Questo vale in campo medico ma in realtà da quanto sentivo nel tuo intervento vale in realtà in tutte le circostanze negli ambienti della nostra vita? Ma sì, fondamentalmente è un approccio divertente, un approccio claunesco è fondamentale in qualsiasi ambito. Prima si parlava ad esempio di scuola, educazione, non solo l'ospedale quindi anche nel rapporto comune un approccio divertente ma anche sereno, felice può migliorare tantissimo le nostre relazioni.